Buongiorno e benvenuti qui direttamente dal Gallanti Beach di Lido di Pomposa, giornata soleggiata, anche molto calda e calorosa, giusto Alen? Giusto, giusto, buongiorno a tutti raga, anche oggi ci siamo, è arrivato Max Fogli, evviva! Anche oggi giornata di musica incredibile qui su Radio Radio GTV, c'è un caldo atomico, quindi noi speriamo che il primo pezzo che poi partirà sia qualcosa di abbastanza tropicale per farvi godere quello che è il pomeriggio e la mattinata su Radio Radio GTV, io ho una domanda per Alen, Alen ma tu come combatti questo caldo? Allora non ti dico cos'ho di fronte alla telecamera, però in un qualche modo organizziamo e troviamo sempre le soluzioni giuste, tipo la frutta, maracuia, cocco, che poi si può abbinare in mille modi, anche io ho due domande, non una, ho due domande, tematiche di oggi e poi ci ascoltiamo un brano musicale, tematica di oggi è, Max dove trovi queste canotte così bella hawaiane e soprattutto come si mangiano le ostriche, brano musicale e poi arriviamo. Ve lo diciamo dopo il pezzo. Ebbene sì, torniamo in onda, allora Max lo vedo bello spiaggiato, sto dicendo spolleggiato, sto facendo un'unione, Max allora parlavamo delle tue canotte hawaiane che ci piacciono un sacco ma parlavamo anche di ostriche, se ne sente parlare tanto in tutti i modi, in tutte le lingue, sappiamo che tu sei un esperto in materia, vogliamo capire come si può degustare un'ostrica nella dovuta maniera. Allora a me sinceramente non piace condirla molto, nel senso che mi piace fatta, staccata con la forchetta e mangiata direttamente dal guscio, senza troppi condimenti, mentre invece per quanto riguarda le canotte hawaiane e anche le camicie, la canotta questa me l'hanno regalata, però sono occultore, mi piace il ritmo estivo, poi vediamo anche Alain che è mega tribale, quindi la tribalità, l'estivo, l'hawaiano, diciamo che fanno parte tutte, sono tutti stili che fanno parte della stessa cerchia. Beh per forza, anche perché tra un canto tribale e l'altro, per forza bisogna unirla, ma soprattutto come dicevi tu Max, io tornerei un attimo alle ostriche, tra granchi blu che ne abbiamo parlato la scorsa settimana e ostriche, ti dico la verità, io nella mia vita ho mangiato le ostriche soltanto due volte e ho fatto esattamente come tu hai consigliato, però l'ho fatto per caso, perché ho visto gli altri consumare le ostriche in una certa maniera e così ho fatto, però ricordiamo che comunque l'ostrica spaventa molto in generale, dicono bisogna stare attenti, però se si è certi dove andate a pranzo o a cena potete stare sereni, questo è l'importante, sapere la provenienza. Sì dai, io dico che io sono molto avventuriero nelle cose, quindi io quando sono le ostriche ho un certo tipo di cucina, io mangio e mi lancio, fortunatamente non mi è mai successo niente, però spezzo anche una lancia a favore di questo tipo di cucina, magari quella del crudo eccetera eccetera, che magari ci sono cibi industriali che non ci fanno niente apparentemente, ma magari sono più dannosi del del cibo crudo reale, il vero cibo, il cibo che la nostra terra ci dà. A questo punto allora farei così, mettiamo da parte le ostriche e facciamo maracuia e lime, mojito analcolico giustamente, se è vero non si può sapere e ci ascoltiamo un brano musicale, molto meglio. Eccoci qua, rientriamo in onda, intanto ancora buongiorno, stavo dicendo buonasera, buongiorno a tutti, diretta con il mio amico Max Fogli, 377-386-1636 il numero della diretta di oggi, come sempre. Altra cosa, allora Max, continuiamo anche a parlare di eventi veronesi in vacanza, riduti di Pomposa, Gallanti Beach, Terrazza Gallanti, ma anche di eventi oggi, mercoledì, insomma sappiamo che avrai un appuntamento importante, io purtroppo non ci sarò, dove sarete? Ma in realtà saremo tra pochissimo su Prima Free, si può dire, una TV concorrenziale però 125 comunque amici, sempre TV Veneta, insieme al mitico Gianni Drudi e a Stefania Cento, dove promuoveremo diciamo quelli che sono gli ultimi brani realizzati, su tutti, Canto Tribale, che è un brano che vede la collaborazione tra me e Gianni Drudi e Alain DJ, che è qui di fianco a me, quindi Alain nella veste di DJ e non soltanto in quella di VJ, quindi state sempre sintonizzati, seguiteci sui nostri social e soprattutto seguite la musica estiva indipendente, un consiglio mio. Sicuramente sì Max, grazie, ti riprendo il microfono, ma ospiti soprattutto di Barbara Abiti, la nostra amica Barbara Abiti, la nostra Barbarella che vi ospita in questa giornata meravigliosa, quindi ecco salutatemela mi raccomando, ma soprattutto amici che ci state seguendo da casa, altra cosa vi ricordiamo che questo venerdì 28 di luglio sarò a Sant'Anna d'Alfaedo, si parla ovviamente dell'evento della Sagra dell'Anno di Sant'Anna, dove inaugureremo la prima serata con il nostro show, con la nostra musica e c'era lo spettacolo Lasershow, mentre il 4 di agosto, venerdì 4, saremo qui, qui sotto, terrazza Gallanti Beach, però qui giù, con lo spettacolo sempre Lasershow e tutte le hit di sempre, 70, 80, 90, 2000. E voi, cosa fate questa settimana? Max, tu cosa fai? Ed eccoci qua con nuova inquadratura, vista mare, che fa vedere bene quello che è lo sfondo qua del Gallanti Beach all'Ido di Pomposa, io sono qui con Alen DJ, che comunque tra un DJ7 e l'altro si destreggia parecchio qui nell'estate, ma una domanda ce l'ho sulle sonorità di quest'estate, cosa va per la maggiore quest'estate e soprattutto cosa suonerai tu? Perché so che ti lanci spesso anche da avventuriero nel suonare anche non semplicemente quello che funziona, ma quello che è a tuo gusto in base alla stagione. Mi piace intanto essere intervistato poi da Max Fogli, è una roba bellissima. Allora Max, quest'anno principalmente, chiaramente si parla di testive, però già da due, tre anni, ora diciamo circa da quattro anni fa ad oggi sempre di più quasi un 80%, 90% it italiana, cioè gli italiani sempre di più in un mood un po' tendente a questa musica diciamo latineggiante, musica, parola commerciale non ci piace, però un mood che è molto, chiaramente molto estivo, partendo dai classici, Bundabash, Annalisa, parlavamo anche l'altra settimana, Elettra Lamborghini, insomma prima i successi erano principalmente e avvertamente latini, oggi gli italiani che copiano in senso buono l'idea e lo stile latino in una chiave italiana. Cosa ne pensi tu invece? Cioè di questa estate e di questi brani che stanno andando molto? Io penso che in realtà l'Italia è un paese latino ed essendo un paese latino penso che negli ultimi anni, avendo tantissimi chilometri di costa comunque, che sono quelli che rendono anche diciamo la musica più estiva, tra virgolette, sia anche giusto che un'identità italiana si venga a creare negli anni e che crei diciamo un filone musicale latino. Tu come la pensi al riguardo? Allora assolutamente sì, bella, mi piace l'Italia latina, mi piace questa cosa, ma soprattutto la domanda a sto punto la giriamo agli amici a casa, 377-386-1636, secondo voi quest'anno la musica è tendente al latino o la musica italiana è diventata parte integrante della musica nel mondo? Diteci la vostra. Ebbene sì, torno alla diretta Radio Adige.tv, canale 19 Smart TV, ma soprattutto musica, eventi e tante estate, tanto mare come vedete alle nostre spalle, questo è il Summer Beach Tour di Radio Adige TV, tanti gli eventi e soprattutto anche tanti veronesi, Max qua oggi al Gallantivici, Rido di Pomposa, una delle terrazze più belle della Rivera Adriatica, ma tanti anche i gradi percepiti in questa giornata, la giornata è meravigliosa e la cosa che ci mette curiosità è che comunque gli eventi non si fermano mai. Allora, quanti veronesi arrivano qua nei lidi della Rivera Adriatica, i lidi ferraresi? Scriveteci, fatecelo sapere, ma soprattutto Max, giro a te la parola e poi andiamo subito via veloci con un brano musicale. Quanti turisti e soprattutto come è stata l'affluenza che hai visto in questi anni di turismo, parla lasciando gli ultimi due diciamo anni, come è stata l'affluenza turismo? È cambiato stranieri? Milano, Verona, Venezia? Dici un po' com'è tu che vivi qua nel cuore della Riviera. Ma io in realtà ho un po' la percezione che anche la gente del territorio, la gente diciamo delle nostre delle nostre ragioni limitrofe abbia voglia, abbia un po' rivalorizzato quelli che sono le spiagge del territorio, infatti come dicevi tu giustamente prima abbiamo tanti veronesi ma anche tanti emiliani veneti in generale che vengono proprio qui in spiaggia perché hanno riscoperto un posto che magari conoscevano ma marginalmente e dopo quel brutto periodo che abbiamo avuto con il covid hanno saputo apprezzare anche un tipo di turismo vicino a casa perché possiamo dire che posti raggiungibili in un paio d'ore sono posti di casa. Quindi io tornerei a parlare di questo subito dopo il brano, giusto? E poi continuiamo il discorso del turismo che è una cosa che interessa veramente tanti. Ebbene sì, si parlava proprio di turismo, di turisti ma soprattutto le evoluzioni del turismo perché sappiamo che, come si suol dire, ogni luogo ha le proprie abitudini, chiaramente mare, barca, montagne, trekking, questo è un po' l'idea, però mare, ultimamente anche tanta tanta bici, soprattutto territorio, Max, correggimi se sbaglio, nel parco del delto, comunque chiaramente per le saline di Comacchio, escursioni in bicicletta, raccontaci un po' cosa si può visitare, in che modo, come funziona e soprattutto quanto piace al turista questo progetto? Ma diciamo che il cicloturismo è un settore che è molto in crescita qui nel territorio, dato anche dal fatto che sono cresciute molto le piste ciclabili ed è la bicicletta un mezzo molto utilizzato anche perché finalmente ci sono poi gli strumenti per poterne usufruire a pieno e per poter godere di quelli che sono i paesaggi e il territorio nel migliore dei modi. Le escursioni sono veramente tante, si può fare anche il classico giro, diciamo quello che costeggia il mare, che parte veramente dal Lido di Volano fino al Lido di Spina, poi c'è una nuovissima ciclabile anche che collega la provincia di Ferrara alla provincia di Ravenna che è una pista ciclabile sospesa sull'acqua dove si attraversano praticamente le valli in questo paesaggio che è veramente incantevole. Quindi un consiglio per chi è appassionato di cicloturismo e conosce anche solo marginalmente i nostri lidi di venire a fare un salto e di interessarsi anche a questo tipo di vacanza. Tra un bagno e l'altro, tra un fritto misto e un cocktail, anche il giro in bicicletta è una cosa che consiglio. Ok, torniamo in onda per questa ultima entrata. Max, grazie per essere stato oggi con noi. Saluto gli amici a casa come sempre che ci seguono. Da Lido di Pomposa e quasi tutto, Gallanti Beach, passo a te il microfono. Max, per questo ultimo saluto finale. Prego. Allora, volevo salutare tutti gli ascoltatori e i telespettatori di Radio ADGTV sottolineandogli quanto con questo caldo ci siano tantissimi veronesi che sono in questo momento in acqua a fare il bagno. Non so se si vede dallo sfondo. C'è veramente tanta gente che cerca il refrigerio perché sì il territorio, sì il DJ set, sì il mojito, ma la gente è a caldo e quindi si tuffa in mare a fare un bagno. Grazie mille Max, tutto vero? Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima puntata. Buona estate. Ciao da me e dal mio amico Max Fogli. Ciao.